Musica Venerdì 3 luglio, bentrovati con una nuova edizione del Tg Estate di Cilento Channel. In apertura la cronaca, denunciate dai carabinieri del comando provinciale di Salerno, 86 persone che attestavano il falso per quanto riguarda il reddito di cittadinanza. Ma ascoltiamo tutti i dettagli nel servizio. Non ne avevano diritto, eppure hanno ottenuto indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza, utilizzando dichiarazioni, documenti falsi, attestanti cose non vere o mettendo informazioni dovute. Sono 86 al momento su un campione esaminato di oltre 2.000 cittadini per settori del sussidio, le persone denunciate dai carabinieri del comando provinciale di Salerno che hanno verificato durante questo primo semestre, con una capillare attività di indagine, i requisiti previsti per la concessione del reddito di cittadinanza. In particolare attraverso l'esame incrociato dei dati documentali e delle informazioni acquisite nel corso di controlli del territorio, con quelli forniti dai comuni di residenza, sono state comprovate numerose irregolarità nelle procedure di dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi ed econometrici. La compagna di controlli che abbiamo avviato all'inizio di quest'anno, dal gennaio del 2020, quindi comprensiva anche del periodo di fermo totale dovuto alla prima fase del Covid e che ci ha impegnato, devo dire notevolmente, in tutta quanta la provincia. Tutte quante le stazioni carabinieri dipendenti dal comando provinciale, che sono 95, hanno fatto un lavoro molto approfondito che ha riguardato tutti i requisiti necessari per ottenere questo beneficio del reddito di cittadinanza. In alcune circostanze abbiamo riscontrato delle dichiarazioni false, in altre circostanze, in una in particolare, ad esempio, il beneficio era anche a vantaggio di un appartenente a un soddorizio criminale operante nella Piala del Sele, condannato per 416 bis. Tutte queste denunce sono state inoltrate dall'autorità giudiziaria e anche ai competenti uffici INPS per territorio per la ripetizione delle somme indebitamente percepite e per l'interruzione del beneficio. C'è il caso singolare di una persona che ha dichiarato di risiedere in un'abitazione nella quale invece esercitava attività di pescheria e quindi quello è un caso molto singolare che ci ha attirato l'attenzione e questo è stato fatto chiaramente con un controllo diretto sul territorio da parte dei carabinieri. E comunque andremo avanti anche per la restante parte dell'anno nello svolgere questi controlli in maniera molto accurata. E cambiamo argomento, ci spostiamo ad Agropoli. Insolita crescita di piante, di camomilla, origano e pomodori sulla spiaggia della Marina. I dettagli nel servizio. Sono iniziati da pochi giorni i lavori di pulizia della spiaggia della Marina presso il porto turistico di Agropoli. Spiaggia tanto apprezzata dai cittadini agropolesi ma tanto penalizzata dalla montagna di Posidonia spiaggiata. Anche per quest'anno, a quanto pare, l'intervento per rimuovere la montagna di alghe nell'aria è rimandato e ciò la rende pressoché inutilizzabile. Ma intanto la natura non smette di stupirci. Proprio in mezzo alla distesa di Posidonia oceanica spiaggiata sono comparse delle piante insolite per la locazione balneare della zona. Il cittadino Gerardo Scotti, noto per il suo attaccamento e salvaguardia dell'ambiente, ha mostrato la presenza sulla spiaggia della Marina di piante come camomilla, origano e addirittura pomodori. Scotti, nel video in cui mostra le condizioni della spiaggia, ha elogiato gli effetti del composto formato dalla Posidonia ed ha attaccato chi sostiene la rimozione delle alghe con interventi dal costo milionario, dato quel che ne resta della spiaggia, ovvero poca sabbia nera e fangosa, quando i rifiuti marini potrebbero essere tranquillamente rigettati a mare perché non contaminati. Le condizioni della spiaggia della Marina, così amata dagli agropolesi e anche dai turisti, sono davvero critiche, con le quantità di sabbia restanti davvero limitate e anche per gli scarsi accorgimenti fatti per salvaguardare l'aria. Solo un serio intervento di ripascimento può salvarla. Tante sono state le idee nel corso degli anni per la riqualificazione e la rimozione delle alghe sulla spiaggetta, ma ad oggi non vi è ancora una soluzione definitiva che possa dare la giusta attenzione ad un luogo incantevole e suggestivo come la storica spiaggia della Marina. Andiamo in Regione Campania, prosegue l'inchiesta per quanto riguarda le case di cura. Ascoltiamo la nostra corrispondente. Le ASL campane devono recuperare le somme erogate alle case di cura in virtù dell'accordo sottoscritto il 28 marzo scorso tra la Regione Campania e l'IOP, Associazione Italiana Ospedalità Privata Campania. Proseguono le indagini scattate a seguito dell'azione della Corte dei Conti, che nelle scorse settimane aveva dichiarato lo stop all'accordo dando mandato alla Guardia di Finanza per acquisire documenti e atti negli uffici delle ASL. Contestualmente è stato anche fatto di vieto alle aziende sanitarie di erogare le somme stabilite nell'ambito dell'accordo e laddove già versate di recuperarle. Un'azione che ha portato sulle barricate le strutture private che parlano di impossibilità a saldare il dovuto al personale ed in alcuni casi si dicono pronte a dichiarare fallimento. Diversi punti da chiarire in merito all'accordo scaturito a seguito del blocco imposto dalla Regione Campania nella fase iniziale del Covid a tutte le prestazioni sanitarie ed ai ricoveri nelle strutture, sia pubbliche che private, fatte salve le prestazioni di pronto soccorso, oncoematologiche e ginecologiche. Dato che in Campania gran parte delle strutture private accreditate sono prive di pronto soccorso, si sono ritrovate a dover valutare la chiusura con la messa in cassa integrazione del personale. In alternativa è arrivato l'accordo con la Regione Campania che ha inserito le case di cura nel programma di intervento per l'emergenza Covid a cifre però pare eccessivamente elevate. Intanto l'inchiesta va avanti mentre tutte le asle campane sono impegnate a recuperare le somme già erogate alle case di cura vista la sospensione dell'accordo da parte della Corte dei Conti. Restiamo sempre in ambito sanitario. In una nota stampa indirizzata all'Asl di Salerno, Biagio Tomasco, segretario del Nursing, ritorna a parlare delle criticità legate all'elisoccorso di stanza a Ponte Cagnano che dovrebbe garantire il raggiungimento del presidio più idoneo a pazienti afferenti alla rete tempo dipendenti. Di fatti la peculiarità e l'oreografia di talune zone della provincia di Salerno, di Chiara, Tamasco, in particolar modo del Cilento e delle zone appenniniche, molte volte non consentono l'ospedalizzazione di pazienti affetti da ictus emorragici, infarto del miocardio, emorragie gastriche, tra le altre senza contare i pazienti politraumatizzati, ha bisognevole di varie specialistiche non sempre riscontrabili in tutti i presidi ospedalieri, cosa che fa assurgere l'elisoccorso, sottolinea Tomasco, è l'unico mezzo idoneo per il trasporto in sicurezza e nei range delle reti tempo dipendenti presso l'ospedale di riferimento. Ora veniamo a conoscenza del fatto che l'elisoccorso stazionante a Ponte Cagnano sia operativo dalle ore 9 alle ore 17, il tutto solo ed unicamente in quanto oltre tali orari non sia attivo il servizio antincendio sulla piazzola di decollo, oltre parebbe al fatto che la stessa torre di controllo non sia operativa al di fuori di tali orari innanzi detti. Considerato che detto elicottero sia fornito di tutte le autorizzazioni previste dall'Enac per il volo e l'atterraggio notturno si chiede, conclude nella nota stampa Viaggio Tomasco all'asla di Salerno, di voler ovviare con la solerzia che vi è riconosciuta tale criticità organizzativa, oltre che spreco di risorse che potrebbe determinare il discrimine tra la vita e la morte di tanti cittadini della nostra provincia. Continuiamo ancora con la salità, ci spostiamo a Polla, presso l'ospedale Luigi Curto saranno riattivati gli ambulatori specialistici da lunedì 6 luglio, ma ascoltiamo i dettagli nel servizio. Poche ore ancora e riprenderanno le prestazioni ambulatoriali presso l'ospedale Luigi Curto di Polla. Una notizia attesa dopo una lunga pausa dovuta alla diffusione dell'emergenza pandemica che ha imposto la chiusura delle attività ambulatoriali al fine di tutelare la salute del personale sanitario al lavoro per fronteggiare l'emergenza e dei pazienti ricoverati presso la struttura ospedaliera per problemi di grave natura. Il virus, che si è diffuso nei mesi di marzo e aprile anche in Campania con il Vallo di Diano, che è risultato colpito con i suoi oltre 150 casi accertati, ha reso necessaria l'adozione di misure di contenimento estreme, come la chiusura anche di numerose attività ospedaliere, tra cui anche le attività ambulatoriali, a partire dal 5 marzo scorso e con successiva proroga dello stop lo scorso aprile. La ripresa di tali attività non è stata facile. Dalla Regione era arrivato l'ok alla riattivazione delle prestazioni ambulatoriali lo scorso 5 maggio, ma per rendere ciò possibile presso il Curto vi era la necessità di adottare misure di sicurezza ed anticontagio obbligatorie a cui l'ospedale di Polla si è adeguato con l'esecuzione di lavori di ristrutturazione e riqualificazione, creando percorsi di sicurezza. Da domani riaprono quindi gli ambulatori anche presso Luigi Curto, ubicati al piano terra dell'edificio storico. La ripartenza ufficiale e anche delle visite ambulatoriali partiranno invece lunedì prossimo 6 luglio. Soddisfatto il direttore sanitario del Luigi Curto, il dottor Luigi Mandia, che garantisce, abbiamo creato uno spazio eccellente che porterà il Curto ad essere un presidio all'avanguardia per le attività ambulatoriali. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Restate sintonizzati sul 636 Cilento Channel. Da oggi puoi prenotare online su www.bccbcc.it una videoconsulenza che ti consente di dialogare con la tua banca ed evitare di recarti in filiale. Usa Relax Banking per l'operatività sul tuo conto corrente H24. Risarcimento Italia, dal 1995 al fianco di chi ha subito un danno. Aiutiamo e tuteliamo i nostri clienti per fargli ottenere in tempi rapidi il risarcimento al quale hanno diritto. Risarcimento Italia, via Mattine 5, centro Le Torri, Agropoli-Salerno. Villa Franca, a Domignano Scalo, per consentire a persone anziane di vivere in un ambiente controllato e protetto. Assistenza sanitaria 24 ore su 24, svolta da infermieri professionali. Villa Franca, via Cerreta 27, Omignano-Salerno. Il gruppo Riflessi, con esperienza ventennale nell'abbigliamento e la profumeria, vi invita a visitare la nuova sede in via Mattine ad Agropoli. Abbigliamento uomo-donna per tutte le taglie, profumeria fornitissima delle più grandi firme. Gruppo Riflessi, abbigliamento e profumeria, via Mattine, Agropoli. Prodotti locali e nazionali di qualità e a prezzi molto convenienti. Non è una favola per bambini, è MD. MD, passione, tradizione e competenza. Buona spesa Italia! Ben ritrovati con la seconda parte del nostro notiziario. Andiamo nuovamente nella città di Agropoli. Vissiterà domani, sabato 4 luglio, alle ore 9, l'inaugurazione dei sentieri nell'area naturalistica Trentova-Tresino. Ma ascoltiamo tutti i dettagli nel servizio. È in programma per domani, sabato 4 luglio, alle ore 9, l'inaugurazione degli antichi sentieri dell'area naturalistica di Trentova-Tresino ad Agropoli. L'appuntamento è in via Fontana dei Monaci, a pochi passi dalla Baia di Trentova, presso la nuova area pavimentata adiacente ai campi da tennis. Nelle scorse settimane la rete di sentieri e percorsi è stata interessata da interventi di ripristino e riqualificazione. L'obiettivo dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Adamo Coppola, è rendere l'area di Trentova una delle oasi più attrattive del sud Italia, concentrando l'opzione strategica sui servizi per la fruibilità sportivo-naturalistica-culturale dei diversi percorsi, così da promuovere e accrescere l'offerta di un turismo naturalistico e dello sport all'aria aperta, ipoturismo, trekking e mountain bike. L'inaugurazione avverrà in contemporanea con il comune di Capaccio Pestum, attivando così una buona parte della rete sentieristica Agropoli-Capaccio Pestum-Castellabate, così come da impegno dei sindaci dei rispettivi enti, nell'ambito del protocollo d'intesa siglato il 6 giugno scorso, teso a garantire una forte azione unitaria rispetto alla promozione ai servizi turistici. La rete sarà completata nel giro di un paio di settimane, con la piena fruibilità dei percorsi fino al comune di Castellabate. Tra le varie linee di intervento è prevista un'azione congiunta di valorizzazione e promozione degli elementi di attrattività per il turismo naturalistico presenti sul territorio, l'area naturalistica Trentova-Tresino ed i sentieri di Capaccio Pestum quale punto di riferimento per appassionati di trekking, mountain bike, ipoturismo e tanto altro. Gli interventi hanno previsto il ripristino della Cala Scoglio del Sale, Cala Pastena, Terza Bretella, Cala Blu, Vallone, nuovo sentiero di Santa Croce, è stata predisposta apposita segnaletica, tabelle descrittive e cartellonistica, allestite panchine e tutto quanto necessario a garantire una maggiore fruibilità. È previsto il pagamento di un ticket di accesso simbolico di un euro a persona solo per i non residenti. I 75 ettari dell'area di Trentova, afferma il sindaco Adamo Coppola, venne acquistata al patrimonio pubblico nel 2016. Si tratta di un'area tra le più belle del sud Italia, dall'alto valore naturalistico e paesaggistico. Il nostro obiettivo è di far vivere e godere a tutti questo angolo di paradiso, nel pieno rispetto della flora e della fauna. Anche in virtù dell'emergenza Covid-19, i turisti in visita ad Agropoli potranno avere nuovi spazi da vivere all'aria aperta, in luoghi davvero unici. Un modo per favorire e sviluppare ed assistere la cultura dell'escursionismo e facilitare la conoscenza dei sentieri escursionistici ricadenti nel territorio comunale e la fruizione integrata della rete sentieristica, in collaborazione con le associazioni del territorio e i comuni di Castellabate e Capaccio Pestum. Andiamo adesso a Capaccio. Nei prossimi giorni la provincia di Salerno consegna i lavori di messa in sicurezza previsti sulla strada provinciale 43 e sulla strada provinciale 315, ricadenti entrambi nel territorio del comune di Capaccio Pestum. Sono accordi quadro finanziati con fondi MIT 2019. Il primo intervento, dichiara il presidente della provincia streanese, viene consegnato il 6 luglio e riguarda la strada provinciale 43 nel comune di Capaccio Pestum. Sono lavori di rinforzo della sovrastruttura stradale di pericolo al pubblico transito nei tratti maggiormente usurati. Il secondo intervento, invece, viene consegnato il prossimo 13 luglio e riguarda la strada provinciale 315, primo tratto che ricade appunto nel comune di Capaccio Pestum. Sono anche questi i lavori di ripristino della pavimentazione bituminosa, sconnessa ed avallata al pubblico transito in alcuni tratti della carreggiata. Restiamo nel Cilento. Ormai è una consuetudine in questo periodo la nidificazione della caretta caretta, la tartaruga marina del Mediterraneo, che con frequenza ormai nidifica sulle coste cilentane. Il primo nido di quest'anno in Campania è stato trovato ad Ascea, uno dei paesi del Cilento, in cui accade più spesso intorno alla metà di giugno. Ma la nidificazione è continuata, dopo delle tracce segnalate a cala del cefalo a Camerota, senza deposizione, un nuovo nido, il secondo a Capriole, frazione di Pisciotta. Ed è di pochi giorni fa invece la notizia del terzo nido campano di tartaruga marina, questa volta sulle spiagge di Eboli. Nella giornata di ieri la notizia del quarto nido in provincia di Salerno, quest'ultimo sempre nel comune di Ascea, a pochi metri dal primo nido. Eventi importantissimi, sul quale si è espresso anche il Ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, parlando sicuramente di qualcosa di positivo, ma esortando tutti alla responsabilità riguardante le plastiche nell'acqua, che sono estremamente dannose per questi animali e per la loro conservazione. Ma i movimenti degli esemplari di Caretta Caretta non si fermano nelle zone di Camerota, Pisciotta ed Ascea. Ci sono molte altre zone costiere ancora non monitorate, dunque serve l'aiuto di tutti e se notate tracce segnalate al 15.30. Ed ora invece un altro servizio dedicato all'azienda CSP con la mascherina Imhotep, che è stata ricevuta dall'ex ministro Pecoraro Scanio per la campagna delle mascherine USA e Getta. Vediamo. 100.000 sottoscrizioni per la petizione contro le mascherine monouso volta a limitare i danni indiretti della pandemia in termini di impatto ambientale. È l'iniziativa dell'Associazione Univerdi, che da sempre si impegna in progetti ecosostenibili e attiva nella lotta alla scriteriata produzione di rifiuti. In prima linea Alfonso Pecoraro Scanio, ex ministro dell'Ambiente, nonché presidente dell'Associazione, che si è complimentato con l'azienda CSP per aver aderito all'iniziativa, in quanto la mascherina Imhotep, creata dall'azienda agropolese, è riutilizzabile e non deriva dal petrolio, quindi del tutto riciclabile. La sua possibilità di utilizzo a lungo termine, senza necessità di gettarla dopo ogni giornata, la rende ad impatto ambientale praticamente nullo. Stefano Cammarano, ideatore della mascherina, insieme ad un gruppo di neolaureati cilentani, è entusiasta. È stato davvero un piacere aderire all'iniziativa dell'Associazione Univerdi contro le mascherine monouso. La tutela dell'uomo è fondamentale per noi della CSP, ma la tutela dell'ambiente è di vitale importanza per tutta l'umanità. Il Covid, continua Stefano, non si limita purtroppo a danneggiare la salute dell'uomo, ma accrescendo la necessità di dispositivi monouso, sta distruggendo anche il nostro pianeta. Una mascherina che nasce in questo periodo non può sottovalutare l'aspetto ambientale. Restiamo nel Cilento. L'azienda Convergenze, S.P.A., operatore di tecnologia integrato, attivo nei settori telecomunicazioni, energie e mobility, avvia l'espansione territoriale al di fuori del Cilento, suo territorio natio, con una prima presenza diretta in Trentino Alto Adice, attraverso due point collocati a Pinzolo e Madonna di Campiglio, in provincia di Trento. Questo territorio è stato individuato tra le prime aree geografiche ideali per l'espansione commerciale di Convergenze S.P.A. Inoltre, vista la concomitanza dell'avvio della stagione estiva, Convergenze potrà sfruttare l'importante afflusso di turisti e proseguire poi anche durante quella invernale, proponendo la sua offerta a telefonia, connettività, fornitura di energia elettrica e gas naturale alle numerose strutture ricettive del territorio. I proprietari delle seconde case, le proposte commerciali di Convergenze in Trentino Alto Adice saranno a supporto sia dei clienti consumer, che grazie alla ottima connettività potranno continuare a svolgere smart working, sia dei clienti small business e business. I point di Convergenze, dove si potranno acquistare servizi di connettività internet e di energia, saranno inaugurati sabato 4 luglio, alla presenza delle amministrazioni locali e delle istituzioni per la promozione del territorio. Rosario Pingaro, amministratore delegato e presidente delle Convergenze, ha commentato questa iniziativa. L'ingresso in Trentino Alto Adice è sicuramente un evento importante, motivo di grande soddisfazione, soprattutto per il periodo che l'Italia sta vivendo, ritengo possa essere il trampolino di lancio per la nostra ulteriore espansione in altre regioni italiane. E ci fermiamo ancora per qualche istante di pubblicità tra poco. Fisiomedica, fisioterapia, rieducazione posturale globale, misura e prenotazione plantari ortopedici, ozonoterapia, tecar e laser terapia, elettroterapia antalgica, ecografie, visite specialistiche, fisiomedica, via NITI 1 Agropoli Salerno. Per ogni tua esigenza di spostamento, Cilento Rent, noleggio auto, furgoni, scooter, biciclette, minibus da 7 e 9 posti. Cilento Rent, ad Agropoli, Capaccio, Castellavate. www.cilentorent.com Scegli BCC Aquara, la tua banca vicina, affidabile, conveniente e cooperativa, da 42 anni al servizio di imprese e famiglie del territorio. BCC di Aquara, sede amministrativa sulla strada statale 18 a Capaccio Pestum. Letisane di Zara, prendersi cura di te è un'ambizione sana. Vai sul sito letisanedizara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili. Facebook Letisane di Zara, info 333 90 26 266 Focus Point fa la differenza, griff delle migliori marche, riparazione occhiali, pronta consegna occhiali graduati da vista e da sole, controllo gratuito della vista, centro applicazioni, lenti a contatto. Focus Point, di Alcide De Gasperi 22, Agropoli Salerno. Santo Mauro, azienda leader nel settore dell'edilizia con 2000 metri quadrati di showroom, pavimenti e rivestimenti delle migliori marche, vasta scelta di arredo bagno, rubinetteria, igienici e accessori. Santo Mauro, materiale per l'edilizia, Capaccio Scalo Salerno. Il studio di nutrizione e benessere, dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista. Si effettuano piani nutrizionali personalizzati. Studio di nutrizione e benessere, dottor Andrea Ricci, pagina Facebook, studio nutrizione e benessere. Convergenze, internet, phone, tv, energie. Ben ritrovati, terza ed ultima parte del nostro telegiornale. Andiamo a Salerno, intesa per iscrizioni, anagrafe dei senza tetto. Ecco, ce ne parla la nostra corrispondente. Sentiamo. Un'anagrafe per registrare senza tetto e l'attivazione di un secondo bando per concedere buone spese. Sono le due novità nell'ambito delle politiche sociali annunciate oggi dal sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. L'iscrizione anagrafica dei senza tetto è frutto di un protocollo d'intesa siglato dal Comune di Salerno con l'Associazione Avvocato di Strada Onlus. Il protocollo prevede lo svolgimento di attività di supporto per la preparazione e la formulazione dell'istanza di iscrizione anagrafica dei soggetti senza fissa dimora. L'obiettivo è la creazione di un percorso condiviso diretto ad acquisire informazioni sulla effettiva situazione socioambientale del soggetto richiedente. Per quanto riguarda invece i buoni spesa c'è tempo fino al 13 luglio per accedere alla seconda tranche dei fondi. È un atto doveroso che noi compiamo per venire incontro ai diritti di tutti i cittadini, di tutti i miei concittadini. Sarà possibile, eleggendo domicilio presso un avvocato di strada, questa associazione benemerita che si occupa degli ultimi, delle persone in difficoltà, eleggendo domicilio, lì ottenere il documento di identità che mette nella possibilità i vari richiedenti di essere suscettibili di ottenere tutti i benefici previsti dalla legge per i concittadini e per i cittadini che siano in possesso di un documento di identità. Dico per tutti il reddito di cittadinanza, ad esempio. Quindi noi siamo arrivati a questa determinazione finale con successo, con grande trasparenza, devo dire, che passando per gli avvocati di strada sia una certezza che le cose vadano nel senso giusto. 300 mila euro messi a disposizione dei miei concittadini che potranno redigere la domanda avvalendosi di un CAF oppure andando, cioè sempre in un modo telematico, per chi ha difficoltà con il computer vado in un CAF e si fa aiutare, le domande arriveranno e saranno esaminate tempestivamente. E ritorniamo a parlare di sanità, la FIALS rilancia la richiesta di indennità per i medici. Ascoltiamo i dettagli. Vedere riconosciute le indennità alle famiglie di operatori sanitari che hanno subito un lutto a seguito dell'emergenza coronavirus. Secondo la FIALS, gli operatori in questione vanno assimilati ai soldati che perdono la vita sul campo di battaglia o ai caduti nello svolgimento delle proprie mansioni. La battaglia contro il coronavirus è stata una guerra. A rilanciare la richiesta questa mattina, ancora una volta, il segretario provinciale della FIALS, Mario Polichetti, che già lo scorso 29 marzo aveva inoltrato questa richiesta in una lettera al Presidente della Repubblica, richiesta che è rimasta però inascoltata da qui l'esigenza di prevedere e rilanciare un bonus per la categoria professionale. Noi il 29 di marzo del 2020, in piena epidemia Covid, abbiamo scritto al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Sanità e al Governatore della Campania, chiedendo che si mettesse sul tavolo da subito questa situazione, cioè dei caduti nell'ambito sanitario, chiaramente a causa del Covid, paragonando questa fattispecie alle altre fattispecie, così come da lei detto, vale a dire come ai caduti in guerra. Non abbiamo ricevuto nessuna risposta, per questo motivo abbiamo indetto questa conferenza stampa per far capire che comunque noi abbiamo sempre l'attenzione puntata sul problema e che andiamo avanti per risolvere il problema o per iniziare almeno una discussione seria. Il Governo deve prendere in considerazione questa nostra istanza. E a chiudere il nostro telegiornale, il consueto appuntamento con il meteo curato da Giuseppe Stabile di Meteosette.it L'anticiclone subtropicale che da alcuni giorni interessa l'intero bacino del Mediterraneo sta per subire un netto ridimensionamento a causa dell'affondo di un vortice di bassa pressione il quale nel corso delle prossime 24-36 ore attraverserà l'intera nostra penisola ponendo così fine all'ondata di caldo che ancora però insiste sulla nostra regione. Un'ondata di caldo che, anche se non ha raggiunto un livello di forte intensità, peraltro così come era stato previsto, ha determinato comunque una condizione di moderato disagio fisico a causa di un tasso di umidità medio-alto. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana. Domani, sabato 4 luglio, cielo da poco nuvoloso a nuvoloso con ulteriore aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio. I fenomeni potrebbero assumere carattere di forte intensità in modo particolare nelle aree a ridosso dei rilievi con possibilità di locali grandinate in serata tendenza ad ampie schiarite temperature in diminuzione con valori massimi inferiori a 30 gradi centigradi ovunque fresco in serata venti in rinforzo dei quadranti nord-occidentali e mare da poco mosso a mosso domenica 5 luglio al mattino condizioni di cielo poco nuvoloso con tendenza ad addensamenti consistenti nel corso del pomeriggio segnatamente lungo la dorsale appenninica dove ci sarà occasione per rovesci temporaleschi prima del tramonto non si esclude che le precipitazioni possano temporaneamente sconfinare anche su alcuni tratti di costa temperature stazionarie su valori lievemente inferiori alla media del periodo venti tra debole e moderati settentrionali e mare da mosso a poco mosso nei primi giorni della prossima settimana insisterà una moderata instabilità pomeridiana segnatamente nelle aree interne con possibilità di qualche rovescio fenomeni che non dovrebbero raggiungere la costa grazie al rinforzo dell'alta pressione questa volta però non più di natura africana bensì oceanica grazie all'espansione verso la nostra penisola dell'anticiclone delle Azzorre dunque per i restanti giorni della prossima settimana e mi riferisco quindi alla seconda parte della prossima settimana l'estate ci mostrerà un volto benevole anche se qualche rovescio pomeridiano va messo in conto nelle aree montuose bel tempo prevalente dunque con caldo moderato e soprattutto accompagnato da scarsa umidità maggiori dettagli sul sito www.meteosette.it e con il meteo andiamo a chiudere l'edizione di oggi io vi ringrazio come sempre per essere stati con noi e per averci preferito vi ricordo che potete seguirci anche sul nostro sito internet www.cilentocannel.it e sulla nostra pagina facebook per restare sempre aggiornati su ciò che accade nel nostro Cilento grazie e buon fine settimana a tutti grazie a tutti